Con Franceschini abbiamo parlato innanzitutto del rilancio cultura e turismo nella nostra città e come Napoli si candida sempre di più ad essere città naturalmente destinata ad ospitare eventi di grande livello. Si è parlato un po' di una strategia turismo-cultura della città di Napoli, ho percepito un interesse concreto del Ministro. Poi ovviamente abbiamo parlato di una serie di questioni rilevanti, San Carlo, dove mi sembra che c'è un'opinione condivisa che il commissariamento debba andare a buon fine, nel senso che deve completare il suo lavoro ma nel più breve tempo possibile e che si sta facendo un lavoro importante anche la Regione che ha confermato il suo impegno, noi che abbiamo fatto il conferimento di beni e che bisogna andare rapidamente al superamento del commissariamento. Questo è l'impegno che ha preso il Ministro, che ha mantenuto, cioè l'impegno che aveva già preso.